E bello a tutti i mozzarelloni sonoci per questo nuovissimo video Oggi siamo qui in questo nuovissimo vlog ragazzi E da tantissimo che non faccio un vlog puro e spuro Insomma E appunto come avete potuto leggere dal titolo Quest'oggi in questo vlog ando a prendere la Playstation 4 E inoltre ragazzi arriveranno anche altri video gameplay Riguardanti sempre robe GTA, FIFA Ma quindi ragazzi direi di non perdere ulteriore tempo E appunto direi di vederci a domani mattina Buongiornissimo Raga mi sto preparando per andare al media world E si sono ancora in pigiama Mapelli e faccia un po' così Perché appunto mi sono appena svegliato E mattina di giovedì Tante belle cose Vado a prepararmi ci vediamo alle clip dell'andatura E comunque raga dobbiamo fare anche gli ultimi saluti a questo bel pezzo di console Ragazzi mi ha accompagnato da praticamente 5 anni a questa parte E vabbè gli ho messo pure il cappellino di Natale Siamo pronti Raga sono da media world Adesso sono in un angolino dove non c'è nessuno Grazie Comunque appunto sto cercando lo scatolone della cosa da un terabyte Perché c'è solo quella da 500 giga E poi la differenza è da 20 euro Quindi penso mi convenga di più quella da un tera Tanto comunque qui è un paradiso Penso che questa sia quella da 500 però Un po' non si capisce Ciao E la playstation slim è da un terabyte? E finita? Sì Raga brutta notizia è finita la play da un terabyte Ci tocca andare di quella da 500 giga Uè voglio bello sto asus Oh mio dio raga che bene essere Raga che bene essere Certo non ho una cosa raccomandabile da fare in un centro commerciale Ma Ok raga dopo tipo un'ora da prima Perché sì abbiamo fatto tantissime code per comprarla C'era veramente tantissima gente Ma comunque siamo qui a casa Siamo qui con la playstation 4 ragazzi Bella figa Cerco di trovare la postazione migliore Insomma dove mettere un po' il tutto Insomma e ci vediamo fra poco Ragazzi alla fine ho deciso di utilizzare la webcam Perché mi sembra di ottima qualità E comunque anche più comoda per fare il tutto E comunque ragazzi Siamo qui con l'unboxing della playstation 4 Utilizzerò un coltello perché non ho un taglierino Ma è la stessa cosa Quindi appunto come ogni scatola si deve aprire Proprio come l'intervento proprio Allora dovrebbe essere abbastanza facile in teoria Non vorrei spaccare niente perché è bello da tenere per collezione queste scatole no? Comunque ragazzi se guardo di lì è perché lo schermo In realtà so che la webcam è lì O magari sono strabico chi lo sa Penso proprio si debba tirare così Ok Questo scatolone ce lo teniamo come ricordo Cos'altro da tagliare Penso proprio di no O forse sì No forse no Cazzo ma è un enigma questo Ma raga non si apre una cosa impossibile Ah no ecco Era qui Ok quindi raga allora Tiriamo fuori tutto il contenuto ragazzi Allora Perché raga come vedete stanno uscendo fuori le cose Però cazzo non riesco a capire come si tira fuori per benino Ok comunque intanto possiamo vedere che c'è il controller Questo qui della playstation O ve lo faccio vedere meglio Questo qui ragazzi il controller Bellino lui Ovviamente anche le altre robe tipo libretti e vere robe Però io non vedo l'adesivo del cazzo Ah mi sa che quello c'è solo su xbox Raga sta arrivando il pezzo forse preparatevi Ah Non c'è nient'altro vero? No Uh Uh la la Troppo bella Troppo ganza Ah mi sono dimenticato di dirvi che sono tipo gli auricolari da collegare al controller Il cavo per collegare la play Il cavo di alimentazione insomma Solamente qui Ma non c'è pure un cavo hdmi Ah eccole qui E c'è anche un cavo per ricaricare il controller Si vede che Slim è molto più piccola di quello originale E mi è piaciuta molto l'idea di Sony di mettere come gommini per tenere ferma la playstation Appunto ha messo i gommini a forma di cosi della play no? Cerchio, triangolo, quadrato e x Grande Sony Ah la prova gratuita del playstation network Dovebbe essere qui la prova gratuita no? No raga non mi hanno dato la prova gratuita No Mi vendicherò un giorno Sony mi vendicherò Ah comunque raga il controller è abbastanza comodo ce l'ho già provato ovviamente I like it Ora però dobbiamo vedere dove mettere questa qui Quindi ragazzi eccoci qui Devo togliere la playstation Addio amico mio Allora dobbiamo mettere il cavo di alimentazione e l'hdmi nuovo Però ora è un casino perché dovrei far passare questo cavo Qua in mezzo alla scrivania in pratica Devo togliere prima quello vecchio Comunque abbiamo staccato l'alimentatore e mettiamo quello nuovo Devo cercare di prenderlo Uh lo ha sciuffato che culo E ora attacchiamo l'hdmi E wow dovrebbe essere tutto a posto Ok quindi accendiamo la play e vediamo se funziona Si accende raga che figo Il controller Anche questo Anche questo si accende Qua sta facendo un qualcosa Troppo bello Ok dobbiamo collegare il dual shock Perché giustamente quando lo prendi e ti si scarica Ti viene un po' lo shock no? Anzi no te ne vengono due perché è dual shock Cazzo Ok Ok ora cosa dobbiamo fare? Non premere il tasto PS vai Allora scegliamo la lingua Io sceglierei un bel italiano tattico Ok usiamo il wifi Quale rete wifi vuoi usare? Se non me ne proponi nessuna Ok metto il codice Dovrebbe essere giusto in teoria Fatto Dovrebbe essere giusto vediamo un po' Come è possibile connettersi alla rete? No Sai che devo vederla al pitch assolutamente Ah era questa Ho messo la Y al posto della I Dovrebbe essere giusto ora in teoria Aspettiamo altre tre ore Ok Cediamo l'orario Roma Non c'è Roma Eccola qui Sono le 11.37 No sono le 38 Avvia ora Vediamo un po' cosa deve fare Wow Troppo bello No devo fare l'aggiornamento Ah ok lo sta scaricando da solo Comunque ragazzi Questo era l'unboxing Il primo avvio della Playstation Se questo video vi è piaciuto Vi lasciate un bel pollice Su un commento Ne tante bellissime cose Su Playstation mi chiamo The Robin E Cipo Dolphin Ma vi metterò tutto in descrizione Tutti i nomi e molto altro E noi ragazzi Ci si vede con altri video Sulla Playstation E non Bye bye Ciao